Dunque ormai ci siamo. Tra poche ore anche a Sciacca sarà completato regolarmente il calendario riguardante l'inizio del nuovo anno scolastico per gli alunni che non erano ancora partiti, tra cui scuola primaria dell'infanzia, scuole medie e liceo scientifico. Decisione che era scontata, ma che sulla base delle richieste fatte da un centinaio di famiglie, Francesca Valente ha subordinato ad un vertice con dirigenti, genitori responsabili dei consigli d'istituto e componenti della Commissione Consigliare Pubblica Istruzione. Vertice che si è svolto ieri sera in videoconferenza, alla fine il primo cittadino ha fatto sapere che le scuole sono sicure, che non ci sono criticità e che dunque, malgrado la situazione epidemiologica susciti una preoccupazione che la stessa Valente ha definito legittima, ad oggi non ci sono ragioni per non autorizzare l'inizio della scuola, anche se siamo reduci da una fase complicatissima, con un'escalation di casi positivi al Covid-19 che comunque, rispetto al tema dell'inizio dell'anno scolastico, non viene considerata di grave emergenza. Tutto questo avviene nelle stesse ore in cui il sindaco ha deciso di imprimere un giro di vita ad una superiore necessità di sicurezza pubblica attraverso un'ordinanza che impone anche l'uso delle mascherine anche all'aperto e multe di importo minimo di 400 euro. Un modo per rendersi conto che non è la scuola il luogo insicuro per i nostri ragazzi, ma tutti quei posti dove ci si riunisce e si bivacca, mostrando di disprezzare ogni elementare misura precauzionale. E allora, pur nella fase di pandemia da Covid-19, da cui non siamo ancora in grado di liberarci, l'inizio del nuovo anno scolastico tende a rappresentare un momento di normalità che viene da tutti invocato. Le scuole in effetti si sono organizzate non solo con i percorsi dedicati con la distribuzione di mascherine e gel, ma anche con una gestione degli ingressi e delle uscite che risponderanno il più possibile alla necessità di evitare affollamenti e assembramenti anche a fronte dei bisogni fisiologici. Insomma, il messaggio è chiaro, non è della scuola che dobbiamo avere paura, bisogna stare attenti ai comportamenti all'esterno della scuola, cercando di tornare a quel senso di responsabilità che abbiamo avuto tutti durante mesi pesantissimi del lockdown e che poi ci siamo illusi di poter mettere completamente da parte quando, a fronte di una parvenza di libertà che ci era stata restituita, bisognava soltanto sapersi gestire. E invece, e non certo soltanto a sciacca, abbiamo letteralmente rovinato tutto. Ma cosa fatta a capo A, come si dice? E allora è doveroso guardare avanti e recuperare quel senso di responsabilità che, forse stanchi, abbiamo smarito per strada. E agli studenti, noi di Telemonte Cronio, auguriamo sinceramente buon anno scolastico.